tutto bene tutto per tutti bene tranne Sef perché ovviamente caratterà tutto ma prendetevela col gioco non c'entro niente io è meglio se l'ha fatto Zawardo lui eh vabbè la possibilità non mi chiamo C'è me! Strano! Oh, al lato! Oh, cacchio! Mamma! Dove hanno preso sto lanciarazzi? Ti vuoi prendere energia, Nate? Abbiamo finito? Sì! TiGun! Sempre colpa di TiGun! Non mi ricordo sta parte! Sei morto Drake! Dai dai! Finito! Elena! Elena! Oddio! Elena! Forza! Ce la fai? Ok, tutto ok! Vai bene! Nate! Attenzione! Adios, imbecille! No! 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 musica epica allora questo remake no questo remastered come la valutate? vediamo se si può togliere si certo che si può togliere vestiamo taigan vediamo se possiamo abbiamo anche bonus skin tesori eh come originale senso capolavoro berserk ah ecco ok adesso che facciamo perché uncharted 2 non so ancora che titolo mettere e lo vorrei fare settimana prossima ma che ne ditevi se stacco un po' qua ci mettiamo io berserk e vale ci facciamo un po' di smite tanto per quest'oretta tanto anche se crash se vediamo se riesce a tenere se non riesce a tenere tanto quello di smite non lo caricherò sul canale dicevi va bene così va bene così ok vabbè vale nel frattempo che noi stacchiamo e mi rilogga e riapro la live possiamo pure far ti aspettiamo nel frattempo che io stacco la live faccio i saluti e mi riavvio la live con un tesoro penso che abbia finito no? e allora e con questo abbiamo finito la nostra serie di uncharted 1 HD no non ti preoccupa vale tanto dobbiamo fare soltanto quelle due vittorie voglio fare soltanto quelle due vittorie e poi basta allora chiudiamo la live e con questo siamo finiti abbiamo finito il primo episodio di uncharted HD remastered tra poco caricherò il video sul canale qua c'è il banner se volete iscrivetevi e ci vediamo domani alle 21 con la live di Duck Chronicle e sabato prossimo alle 21 con la live di uncharted 2 2 HD io saluto Sef, Jack, Bear e il buon Vale che ci hanno seguito Sik, Parvis, Magna tutti quanti e ci vediamo a domani ciao a tutti grazie 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 a tutti